Il latte, ho studiato il latte. L'attenteo costa un litro e venti al litro, schermato un e quaranta, yogurt, mago, iomo, al caffè un e trenta, la confezione da due. Però se cambiate le materie e non avvisate, se vuole posso calcolare l'area euro. Però ci vuole il più greco, ma greco però lo facciamo al terzo anno. Io sarei onorato, facciamo la stima verso di me nell'area euro. Se mi chiama Mattarella io salirò certamente su quel colle lì che dice lei. Ma perché non ho la tabella dei colli? Perché ieri non ho potuto studiare perché avevo giudo.